E ora parliamo di animali domestici. A Spoleto si è festeggiato un curioso carnevale dei cani, mentre a Spello si è conclusa una mostra dedicata ai gatti. Ci dice di più Cecilia Porro. A Spoleto una coda di carnevale, anzi tante code, quelle dei cani che per il secondo anno hanno preso parte all'iniziativa per raccogliere fondi destinati al canile comunale. Costumi su misura, qualche accessorio, un po' di colori e il gioco è fatto. Quattro zampe di ogni età e taglia, dal mini al maxi, si sono fatti ammirare partecipando alla gara mascherata in compagnia dei loro padroni. Da questi ladri, a dire il vero, ci saremmo aspettati un bassotto, ma tante... e questa signora andrebbe premiata per l'autoironia. Spoleto assiste in curiosità, ma non sappiamo se a divertirsi di più siano i cittadini oppure i cani.